Ciao! Qui su YouTube e su Instagram va tantissimo un tag che si chiama Le 5 cose che non sapete di me. E visto che sono stata taggata sia su Instagram che qui su YouTube da tantissime persone, voglio rispondere una volta per tutte. Ho pensato di farlo qui invece che nelle stories che poi appunto vanno a morire e nessuno saprà mai queste 5 cose fondamentali della mia essenza. E niente, quindi cominciamo dalla prima. Allora, avete presente le bambole quelle di porcellana? Lo so che in tantissime, in tantissimi nel mondo le collezionano, ma io le trovo da fin dell'orrore. Avete presente Jackie, la bambola assassina? Ecco, per me tutte le bambole di porcellana sono così, con questi vestiti. A parte che mi sa di un raccoglipolvere incredibile. Lo so che tantissime siete lì che dite, ma come Gabriella? Io le colleziono, le amo! Tantissime le tengono sul letto, le tengono in camera da letto. Ecco, io non riuscirei mai a dormire in una stanza con una bambola di porcellana. Mi ricordo tantissimi anni fa, io era veramente piccola. Avevo avuto 3-4 anni, 5 anni, non lo so, ero veramente piccolina. Una vicina di casa di mia nonna mi ha regalato una di queste bambole in una scatola. C'era la bambola e poi c'erano tutti i vestitini, varie scarpette, cappellini e l'ho aperta e l'ho lasciata lì. E mia nonna, ma no, non dici, mi piace, grazie, bellissima! E io no, perché questa è la bambola stregata, cioè la bambola maledetta. mia nonna così. Cioè, quindi fin da piccola ho avuto questa sensazione. Non lo so, forse perché sono molto realistiche e quindi mi inquietano e non lo so, oppure da piccola avrò visto un film dell'orrore. Non lo so, niente. No, alle bambole di ceramica non ce la posso fare. Seconda cosa che non sapete di me? Gabriela. Sì, mi chiamo Gabriela. Pensate che c'è stata una sfigata. Si può dire sfigata? Sì, una sfigata. Una, sì, una sfigata perché non trovo un altro sinonimo che mi ha detto ecco da quando sei diventata famosa, cioè come se a Hollywood sapessero chi sono. Ti sei montata la testa da Gabriela, addirittura adesso hai il nome d'arte, ti fai chiamare Gabriela. E io, ma veramente? Ma come mai se il mio nome d'arte mi chiamo così da quando sono nate, anche se i documenti c'è scritto Gabriela? Forse perché il mio nome è vero? Perché tu credevi mi chiamassi Gabriela come il 99% della popolazione, invece il mio nome è Gabriela. Perché mi chiamo Gabriela? Perché mia mamma aveva un'alunna che si chiamava Gabriela, sarei innamorata di questo nome, quindi fa la prima figlia femmina che mi nasce, la chiamerò Gabriela e quindi sono Gabriela, un nome che sbagliano tutti. Addirittura c'è chi mi dice ma Gabriela con una o con due B? E niente, io penso di avere il nome, il cognome più difficile del mondo perché me lo sbagliano tutti, cioè se possono mettere vocali o consonanti a caso le mettono proprio nel mio nome e nel mio cognome. E non è che se voi mi chiamate Gabriela è la stessa cosa, Gabriela ha un altro nome. È come se voi mi chiamate Maria, Carlo, Giovanna o Benedetta. Gabriela ha un nome e Gabriele è un altro, come quelle ragazze che si chiamano Rosanna, Rossana, Raffaella, Raffaella. Ognuno ha il suo nome. Punto. E non, ma cosa te la prendi una L in più? No, la prendo, cioè non è il mio nome, è come se tu mi chiami Carlo, non mi chiamo Gabriella. Punto. Ecco, una cosa su cui mi arrabbio molto è il mio nome. La terza cosa che non sapete di me, voi mi vedete così tutta carina, tutta truccata, pettinata, vestita carina di rosa soprattutto, ma io in realtà sono Manny, non so se molti di voi lo conoscono sicuramente chi ha dei bambini piccoli. Manny tutto fare, avete vedete c'è un cartone animato dove questo qua fa l'idraulico, fa l'ingegnere, fa tutto, ecco io faccio così. Io sono un idraulico, sono un elettricista, sono un imbianchino, un falegname, io faccio tutto. Se c'è qualcosa di rotto in casa, lo sistemo io. Le cose che non sono capace di sistemare, per esempio in questa casa qua, le prime volte che abitavo qua, avevo un problema con lo scarico e non sapendo cosa fosse, ho chiamato l'idraulico, ho visto come faceva, ho comprato tutto lo corrente e adesso è da 5, 6, 7 anni, se non so da quanti anni vivo in questa casa, faccio tutto io. Mi si è rotta domenica il lavandino, perché ovviamente quando succede il venerdì sera, sabato sera o la domenica, mi gocciolava sotto il lavandino, non so i termini tecnici, ma li so riparare, ho smontato tutto, ho pulito, ho rimontato e funziona. Ma vi so cambiare anche le lampadine, le prese, le spine, gli spinotti, so fare tutto. Mi ricordo una volta, questo grazie a mia mamma e grazie a mio nonno, perché anche mia mamma è così, lei sa fare qualunque cosa in casa. Una volta è venuto il tecnico di Sky, guardo lì perché c'è la televisione, è venuto il tecnico di Sky ed era lì a cambiare fili, cose, eccetera, e io gli dico, ma forse è meglio che use un mammut. E lui mi guarda, ah, ma allora lei se ne intende, mi stava guardando perché se ne intende, non perché era curiosa di vedere cosa stessi facendo. E io no, cioè, da quando ero piccola appunto mio nonno che riparava qualunque cosa, dalle lavatrici e tostapane, ho imparato da lui e mi piace anche. Quindi se c'è qualcosa da fare, chiamate Gabri, 24 ore su 24, servizio a domicilio. Poi, la terza cosa che non sapete di me, non mangio il pesce. Cioè, almeno tante lo sanno e tante no. Non mi piace proprio l'odore del pesce. Io sto male quando sento l'odore del pesce. mi ricordo che ero in Cina o in Giappone. Aiuto, sto proprio facendo una gaff tremenda che c'è il mercato del pesce famosissimo. Non mi ricordo più. Comunque ci hanno portato appunto al mercato del pesce per vederlo perché è uno spettacolo vero. Forse in Giappone. non mi ricordo. E niente, cioè io ho aperto la porta, sono uscita e sono stata male. Ecco, a me proprio l'odore del pesce. Io proprio non lo tollero. Mi ricordo che quando uscivo con quei ragazzi, magari mi invitavano a fare a cena perché volevano fare bella figura, ovviamente dove mi portavano sempre a mangiare il pesce. E io tutte le volte non mangio il pesce. Cioè prefesco che mi parti da McDonald's che non in uno stellato a mangiare il pesce perché io non mangio il pesce. Ecco, quindi non mangio il pesce. Però non tutto. C'è una cosa che mangio, che mi piace tantissimo, che è il tonniscatola. Però deve essere solo tonniscatola e non la naturale perché già quello sa un po' di pesce. Poi mangio a volte dei calamari fritti ma che non devono sapere di pesce. E poi per il resto basta. Questo è tutto il pesce che mangia. La quinta cosa che non sapete di me, ma forse l'avete anche intuita dal mio shopping convulsivo. A me che colleziono qualunque cosa, cioè di ogni cosa devo avere milioni di cose, ma soprattutto dei casalinghi. Cioè io non smetterai mai di comprare tazze, bicchieri, riposate, tovaglie. Cioè per fortuna la casa è limitata perché sennò io vedo un set di bicchieri, impazzisco, vedo un set di tazze, impazzisco, vedo un set di posate. Cioè io i casalinghi li comprerei tutti. Vorrei un armadio infinito per vendere tutte le tipologie. Infatti a un certo punto mi sono data una regolata e dai servizi da 12, ho cominciato a prendere quei da 6. Poi da 6 adesso prendo i servizi da 2. Così almeno posso prendere più roba perché sennò non mi ci sta più. Cioè non so più dove mettere stoviglie in casa. Ecco questa è la quinta cosa che non sapete di me. E niente spero tanto di avervi tenuto compagnia. Scrivetemi qua sotto le 5 cose che molto spesso le persone non sanno di voi e siete anche tutte taggate. Quindi se volete anche voi aspetto il vostro video per sapere le 5 cose che le persone non sospetterebbero mai di voi. E niente no! E ci vediamo al prossimo video! Ciao!